ben ritornati amici di triskel pixel io sono il vostro imbucato siamo in the last of us ci siamo appena messi a posto le armi e adesso andiamo a trovare ellie la propria piccola ellie finissilo l'ho beccato dai il colpo morso non oggi tu no no ottimo dividiamoci e assicuriamoci di aver preso tutti non 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 Sì, è vero. ce n'è uno poi non vedo gli altri uno snack ecco 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 che bello fare la stilte ragazzi mamma mia prima volta che mi capita di fare uno stilte tranquillo colpa di Ellie capito sarà sempre colpa di Ellie ecco 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 Oh, per lì. Oh, per lì. Oh, per lì. Tranquilla. Tranquilla. Oh, per lì. 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 Tranquilla. Non vado da nessuna parte. Oh, per lì. 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 Per lì. Oh, per lì. Oh, per lì. Oh, per lì. Oh, per lì. Andiamo? Oh, per lì. Oh, per lì. Per lì. Armi corpo a corpo. No, maggiore durata delle attrezze con l'arma. Oh, bene. La porta ha sempre un pieto scifi. Vedi un modo per arrivare lassù? No. Wow. Guarda un po'. È uno sfogo. La gente riusava per scattare il fatto ricordo. Sì, lo so che cos'è. Allora, Ellie. C'è qualcosa che ti preoccupa? Ah. Non volevo disobbedirti prima. Ci stavi mettendo un po'. Ho fatto un sacco e così ho pensato... Che ti fossi cacciato nei guai. Non mi importa cosa pensassi. Devi starmi a sentire quando ti parlo. Lo faccio. È solo che... Non importa, Joel. Beh... Chissà cosa voleva dirti... Forse questo ci può aiutare. Ok Guarda, pesa più del previsto E gli aiuti? Sei sicuro che possa farcela? Ellie Spingi Sto vincendo Spingi di più Che le dici? Andiamo Ho una brutta sensazione in questo punto Aspetta, cos'era? 2013 Wow Promo 2013 Ah, sarà stato qualcosa E il ponte tovà Oh mio, orto Vieni, giù a testa Adesso Io vado giù e cerco di liberare il passaggio E io che faccio? Tu rimani qui È un piano stupido Avremo molte più possibilità se ti dessi una mano Lo farai A quanto pare sai maneggiare un'arma Pensi di farcela con questo? Beh Diciamo che ho già usato un fucile Ma contro dei ratti Ratti? Era d'aria Vabbè Vabbè, il concetto di base è lo stesso Solo Ci siamo Appoggia a tivene al fucile Per chi scalcerà molto più di un giocatore per bambini Capito? Bene Tira indietro la sicura Prendila qui Tira forte Così E appena spari Metti subito dentro un altro proiettile Ascoltami Se ho problemi da sotto Tu non devi sprecare un colpo Ok? Ho capito Dovremmo fare in modo che Non lo sprechiamo Vabbè E per essere chiari A riguardo a prima Non c'era alternativa Non c'è di che In modo per dire Grazie Lo stronzo doveva saperlo Vuoi rubarla? Anche no? Io avrei Sono tutti morti Tutti morti Cazzo E cosa diavolo sto parlando? Calmati Chi è vero? Tutta la squadra Le 76 sentinelle Qualche turista del cazzo Li ha uccisi Tutti quanti Hai parlato Sì Vuole che ognuno Mantenga la posizione Che controlliamo il cancello Ok Avete sentito Cercate ovunque Non fate passare nessuno Hai sentito? Sì l'ho sentito anch'io Occhio Deve essersi sbagliato Sulla morte della squadra Non posso immaginare Dei turisti che uccidono Tutta la squadra E se fosse vero Forse sono i militari Che fortuna Non fare l'idioto Sulla morte della squadra Non si Sì, è vero. Buon appetito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Adesso c'è la sicura, non sai come si toglie. Ok. Ok, l'importante è maneggiarla con cura, non è un... Ok, ragazzi, adesso ci rivediamo di nuovo qui, perché adesso vado in giro a trovare oggetti. Ok, siamo ritornati, ho girato un bel po'. Ma penso che qua ci sia dell'altro, quindi controlliamo anche qui, siamo iniziosi, siamo con poche emozioni. Che schifo, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo facevano i topi alla griglia. Ok. 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 quindi poi è meglio essere preparati allora ne abbiamo 82 velocità di fuoco vediamo minore in culo velocità di ricarica facciamo questo aumenta la gettata dell'arma per forza devo fare questo ora si che si ragiona forza Giavolo 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 Non potevo fare niente Lo so Super Gabriele Cerchiamo di arrivare al ponte C compelling Aspetta, se non ricordo male, era qui in questo complesso che trovavamo i tuoi fratelli. Spero che ci fosse un esercito in quel giugno. Come cazzo hanno fatto? Eliminare l'intera squadra laggiù. Ellie! Grandiosa! Cosa? Fatto bene? Ti pacerei, ma però non ci arrivo a te. Puoi anche abbassare l'arma, sai? Non c'è più nessuno. Vediamo un po'... Niente. Spero di non farlo troppo lungo il video. Per esempio, se siamo in un punto fermo, quasi quasi, ragazzi, vi direi che ci fermiamo qui. E ci vediamo nel prossimo capitolo.